Vizio di mente totale, assoluzione anche in appello per l'assassino dei poliziotti, il padre di De Menevo, stiamo stanchi di sentir parlare di malattia mentale, ma andiamo avanti. Mortale o piccina, mentre si moltiplicano i messaggi di cordoglio via social, la dinamica della polizia locale chiarisce che il 19enne era finito contro mano. Incendio in appartamento a Borgo Grotta Gigante, la 75enne padrona di casa è stata intossicata e ustonata, ricoverata all'ospedale di Cattinara. Autorità portuale, numeri da record per le partecipate, specie quelle ferroviarie, nuove assunzioni è in ALPT dopo mesi di overbooking di maestranze. Riapre il castelletto di Miramare, ospiterà anche piccole cerimonie da 15-20 persone e da giugno un biglietto da 20 euro per scoprire le piccole attrazioni del parco con visita guidata. Corsa dei miracoli in 2500 in piazza per la non edizione della gara di solidarietà organizzata da Ian Caritas e la diocesi di Trieste. Il genio e le sue mutazioni resterà a Revoltella fino a settembre, omaggio a Mirò, mostra allestita su indicazione di Achille Bonito Oliva. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Telequattro. Alejandro Augusto Stefan Meran, l'assassino dei poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo De Menegho è stato assolto per vizio totale di mente, confermata in corte d'appello la sentenza di primo grado, delusione fortissima da parte delle famiglie delle due vittime dei due agenti uccisi. Mi auguro solo che quando un giorno gli servirà l'aiuto di un agente di polizia, gli si presenta davanti un ragazzo di 30 anni, magari ci pensa. Trattine a stento le lacrime, lo sconforto e la delusione sono palpabili. Così Fabio De Menego, il padre di Matteo, accoglie la sentenza di assoluzione in corte d'appello di Trieste di Alejandro Augusto Stefan Meran, che il 4 ottobre 2019 nella questura di Trieste ha premuto il grilletto, uccidendo i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego. La corte ha confermato la sentenza pronunciata in primo grado. Il dominicano è stato assolto per vizio totale di mente al momento del compimento dei fatti, mentre è stato condannato alle spese processuali. Siamo un po' stanchi di sentire queste scuse, quanto è malato il Meran, quanto sta male. Siamo stanchi di questa storia, però dobbiamo andare avanti e non ci resta nient'altro da fare. E avanti si andrà, la parola ora passa alla Cassazione. L'udienza di appello di stamattina si è aperta con la presentazione di un'eccezione da parte degli avvocati di parte civile per un vizio procedurale, citando il mancato rispetto dell'articolo 603,3 bis del codice di procedura penale, secondo cui in caso di appello del PM di una sentenza di proscioglimento che verte sulla valutazione di prove dichiarative, il giudice deve rinnovare il dibattimento di tali prove assunte nel processo di primo grado. Quindi convocare i parenti, il poliziotto rimasto ferito durante la sparatoria, e il professor Ferracuti, che ha firmato la perizia psichica su Meran, la quale concludeva per vizio totale di mente. L'eccezione però è stata respinta dalla Corte d'Assise d'Appello. Il processo è ripreso con la fase dibattimentale. Il procuratore generale, Carlo Maria Zampi, ha chiesto per Meran la condanna a 25 anni di carcere, più 3 dentro una REMS. La Corte, presieduta da giudici e rifiorati, ha invece confermato la sentenza di primo grado. C'è delusione sicuramente. Adesso solleciteremo certamente la procura generale a fare il ricorso per Cassazione, cosa doverosa perché deve difendere ovviamente il suo ricorso in Appello. Siamo fiduciosi anche perché ritengo che quell'eccezione che è stata respinta senza nessuna motivazione, cioè l'eccezione di riaprire il dibattimento. Abbiamo fondato i motivi anche sulla base della giurisprudenza e della chiarezza del codice sul punto che la Cassazione possa accogliere il nostro ricorso e quindi ricominciare con un dibattimento dove le prove dichiarative, compresa la perizia, saranno nuovamente discusse. Noi su questo confidiamo e siamo fiduciosi. Cordoglio via social e non solo per la morte del 19enne Denis Vidao, deceduto mercoledì sera in strada nuova per Opicina mentre si trovava in sella il proprio scooter. Intanto emergono anche nuovi dettagli sulla dinamica dell'incidente. La tragica scomparsa del 19enne Denis Vidao, morto a seguito dell'impatto tra la moto che lui stesso guidava e un'automobile, lungo strada nuova per Opicina, ha toccato in molti a Trieste, poi la dinamica dell'incidente e poi la tristezza di una giovane vita che si spezza. Sui social si ricorrono messaggi di condoglianze, sul sito internet della Feder Cannottaggio regionale è riportato un messaggio in memoria del ragazzo. Una di quelle notizie delle quali non si vorrebbe mai scrivere. Questa notte se ne è andato un giovane cannottiere, Denis Vidao, 19 anni, ex atleta dell'Adria, ha perso la vita in un incidente stradale a bordo della sua moto scontrandosi con un'auto sulla strada nuova per Opicina nei soborghi di Trieste. Alla famiglia di Denis vadano le sincere condoglianze da parte dell'intera famiglia del Cannottaggio regionale. Messaggio che in altre forme viene riportato anche da diverse realtà del Cannottaggio locale, ma anche ai tanti amici, i colleghi, la circoscrizione. Riguardo la dinamica dell'incidente sono in corsi i rilievi attraverso quanto raccolto sul posto e la visione di alcune immagini catturate dai sistemi video della zona. L'impatto è stato molto violento. Denis procedeva lungo strada nuova per Opicina in direzione Trieste dopo aver finito il turno di lavoro al Caffevatta Opicina. Lo schianto è avvenuto proprio nel tratto di strada fra l'Obelisco e l'incrocio con salita a Conconello. Dai primi rilievi sembra che il mezzo a due ruote sul quale viaggiava il 19enne al momento dell'impatto si trovasse nella corsia opposta, quella sulla quale procedeva l'auto guidata da una 57enne oggetto del violento scontro. Non sono note le cause di questa uscita di corsia. Un ostacolo? Una distrazione? Uno sbandamento? Al vaglio delle forze dell'ordine ci sono diversi elementi, uno di questi la velocità dei due veicoli, ancora da appurare. Una donna di 75 anni è rimasta intossicata e ha subito un'ustione a seguito dell'incendio divampato nel suo appartamento di Borgo Grotta Gigante sul Carso Triestino. Una donna di 75 anni è stata soccorsa dai sanitari intorno alle 3.30 della notte scorsa per un'intossicazione avvenuta in seguito a un incendio divampato per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei vigili del fuoco nella sua abitazione a Borgo Grotta Gigante nel comune di Sgonico. Allertati dal comando degli stessi vigili del fuoco di Trieste, gli infermieri della struttura operativa regionale d'emergenza hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'autoambulanza da opicina. Il personale sanitario ha preso in carico la donna che ha riportato una leggera intossicazione per aver respirato i fumi della combustione e anche un'ustione al volto. È stata controllata sul posto anche una seconda persona per cui non è stata necessaria l'ospedalizzazione. L'anziana è stata portata all'ospedale di Catinare in codice giallo, stabile e cosciente. Gravi i danni invece all'interno dell'abitazione sul carso triestino. Paura e apprensione dopo l'allarme lanciato oggi attraverso i social per la scomparsa di due bambini a Trieste. Usciti di casa presto, i bimbi hanno fatto perdere le proprie tracce per diverse ore. La madre ha lanciato la richiesta d'aiuto e grazie al tam-tam sui social network la notizia è circolata rapidamente in tutta Trieste. L'allarme è confermato anche dalla polizia da parte della questura di Trieste e poi è rientrato nel pomeriggio quando i due bambini sono stati ritrovati. Questa sera vi ricordo l'appuntamento con Ring, in studio con Ferdinando Avarino, Roberto Cason del gruppo Misto, Valentina Repini del PD, Michele Babuda, l'assessore dell'urbanistica, Kevin Nicolini di Adesso Trieste. Poi 22.25 appuntamento con l'intervista con Deborah Saracchiani del Partito Democratico. alle 22.40 invece ha ospite Franz Klamert della sezione ANA di Trieste, si parlerà di Alpini e della Dunata di Udine. Una notizia in merito all'immigrazione, le parole del Presidente Fedriga sul sì ai piccoli centri di accoglienza di migranti. Ho fatto presente che i grandi centri di accoglienza sono stati un fallimento, ingestibili e pericolosi e nemmeno l'accoglienza diffusa ha dato le risposte che qualcuno si aspettava, ha detto il Governatore, perché manca il controllo. Forse centri piccoli ma controllati, in cui anche la popolazione che vive lì vicino si sente sicura, possono essere una soluzione migliorativa. Così il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha in riferimento all'incontro di ieri della conferenza della Regione con i ministri Piantedosi e Musumeci. Proseguiamo parlando invece di Porto con numeri da record per le partecipate dell'autorità portuale dell'Adriatico Orientale e novità anche sul fronte Assunzioni. Sentiamo. Il porto di Trieste e Monfalcone è sempre più al centro di un sistema che cresce non solo per traffico ed economie, ma quanto a struttura societaria e posti di lavoro, ben 2.000 complessivamente. Il Presidente dell'Authority, Zeno D'Agostino, ha fatto il punto sul lavoro messo in campo fra il 2015 e il 2022 dall'autorità portuale e dalle 7 società partecipate. Un network che per valore di produzione è triplicato da 52 a 156 milioni di euro e per utile balzato da 1 milione e 600 mila euro a 5 milioni e mezzo di euro. Quindi alla fine noi vediamo un interporto che cresce, vediamo una cosela che cresce, vediamo tutta l'attività per esempio dell'Agenzia del Lavoro che cresce, il Terminal Crociere che dà dei numeri importanti, la Porto Trieste e Servizi che ormai lavora dappertutto e poi le due società ferroviarie, tra virgolette, quindi Alpe Adria con un fatturato, anzi in giro d'affari quest'anno è di 95 milioni, cosa veramente fuori da ogni aspettativa, piuttosto che Adriafer che quando siamo arrivati era in fallimento e che oggi invece produce fatturati utili e una grandissima occupazione. Sistema dei servizi ferroviari che ha permesso di raggiungere il dato record di 11 mila treni operati complessivamente e innescato le partnership con l'interporto di Duisburg e il porto di Hamburgo. Nel settennato il valore della produzione dell'autority è passato da 41 milioni e 3 a 58 milioni e 3. In pari tempo la patrimonializzazione dell'ente è cresciuta da 64 a 160 milioni. Il patrimonio si è arricchito con l'inclusione dell'azienda speciale del porto di Monfalcone con le sue aree, l'acquisto dei terreni della zona delle Noghere e investimenti tecnologici. Servizi aumentati del 100% per Porto Trieste Servizi, del 20% per l'interporto, del 40% per Trieste Terminal Passeggeri che gestisce il mondo della croceristica e del 35% nell'organizzazione del lavoro in banchina di Agenzia per il lavoro portuale. Comparto quest'ultimo che dopo i recenti casi di overbooking di maestranze evidenziati da Telequattro ha deciso proprio oggi per nuove assunzioni. Abbiamo appena concluso in questa sala l'assemblea di approvazione del bilancio di Alpt con soddisfazione e con soddisfazione è stato detto ai soci che oltre all'autorità sono tutti i terminalisti del porto che si procederà a nuove assunzioni perché effettivamente siamo di fronte dei picchi importanti rispetto a quella che è la normalità. Quindi sì, è chiaro. E qui stiamo parlando di qualche decina di persone però fondamentalmente poi abbiamo però il COSELAG, abbiamo l'interporto che è parte fondamentale dello sviluppo industriale per esempio anche di BAT e quindi insomma quando alla fine noi ragioniamo sul sistema portuale ormai stiamo parlando di soggetti che sono strettamente connessi anche allo sviluppo industriale. L'incontro previsto per stamani a Trieste sull'avvertenza a Varsila tra rappresentanti dei laboratori sindacati e parlamentari del Friuli Venezia Giulia è stato annullato, lo comunicano fonti sindacali precisando che i parlamentari sono stati trattenuti a Roma per partecipare alla discussione relativa al documento economico-finanziario. Non è stata ancora decisa una nuova data per l'incontro. Il paracchiarbola di Trieste è pienamente operativo dopo i lavori che il Comune di Trieste ha svolto seguendo quelle che sono state le prescrizioni dei Vigili del Fuoco che avevano temporaneamente fatto chiudere l'intera struttura con i problemi del caso per Pallamano e altre 11 società sportive. 650 mila euro i denari spesi per le ristrutturazioni eseguite dal municipio. Ce ne parla l'assessore Lisa Lodi nel servizio di Bernardo Gulotta. L'allarme è rientrato ovviamente stiamo seguendo con attenzione tutto il percorso ci tenevo a questa conferenza stampa per far chiarezza ovviamente su tutto l'iter ma anche per comunicare quanto importante sia Pallacchiarbola di Trieste per tutta la città. L'allarme Pallacchiarbola è rientrato la struttura è operativa mattina e pomeriggio. Dopo la parziale riapertura solo pomeridiana del 27 marzo le prescrizioni indicate dai Vigili del Fuoco sono state ultimate ed è stato anche risolto il nodo del personale preposto con abilitazione antincendio rischio elevato necessario per mantenere aperto l'impianto. Oggi l'assessore ai lavori pubblici Lisa Lodi ha tracciato il lavoro eseguito in questi mesi. Il tassello mancante è relativo a due piccole palestre in concessione a Società della Pesistica e delle Arti Marziali che però non stanno pregiudicando l'operatività intera della struttura. Stiamo lavorando per ulteriori prescrizioni più a lungo termine date dai Vigili del Fuoco che però permettono come potete vedere alle mie spalle la piena apertura a regime della struttura e stiamo lavorando anche sulla parte della struttura ovvero una zona data in concessione quindi sono delle palestrine date in concessione a un terzo a un'altra ADS che purtroppo i lavori non sono stati eseguiti come da prescrizione dei Vigili e quindi il Comune si sta facendo carico ovviamente anche di questi nuovi lavori affinché possano rientrare anche quelle società che frequentavano essenzialmente quelle palestre lì quindi Pugilato e Arti Marziali. Costo dell'intera operazione è 650.000 euro i principali interventi hanno riguardato il rifacimento della guaina l'impermeabilizzazione e la sistemazione delle parti ammalorate a cui seguiranno interventi di adeguamento delle barriere architettoniche in più sono state rimosse attrezzature sportive in disuso dall'area tribune e in generale altri materiali inerenti alle attività delle società ma ormai dismessi da anni e depositati qua e là dentro il palazzetto sono stati aggiunti punti antincendio con nuovi estintori e allo stesso tempo è stato rimosso materiale che avrebbe potuto in caso di incendio prendere facilmente fuoco. Ci spostiamo ora a Miramare dove è stato riaperto il castelletto dopo due anni di accurato restauro. Vediamo il servizio. Questo di fatto è il primo edificio che viene costruito nel parco nel 1856 dall'ingegnere Carl Juncker che lo costruisce in tutta fretta in modo che i due arciduchi possano soggiornare in questo luogo mentre si costruisce il castello. Torna al suo antico splendore quella che fu la temporanea dimora di Massimiliano e Carlotta dopo un restauro conservativo durato due anni il castelletto si svela nella sua particolarità la pianta irregolare, le bow window, la terrazza e la torretta che ricorda quelle del suo fratello maggiore di cui doveva rappresentare una miniatura ripristinato il colore chiaro originario delle facciate eppure le decorazioni interne in prospettiva il pian terreno ospiterà un ampio bookshop e un infopoint d'accesso del tutto nuovo considerando il futuro ascensore che salirà da Grignano. Qui sarebbe una buonissima soluzione noi la stiamo attendendo perché libererà un po' l'accesso al mare che in questo momento è già ingestibile in genere è ingestibile da agosto ma questa stagione è già ingestibile in questa stagione. Quanto al primo piano si passa dalla sala fiamminga dedicata alla primavera e ai motivi floreali al salottino moresco voluto da Massimiliano affascinato dai suoi viaggi in Medio Oriente per ricordare il mondo ottomano per arrivare poi all'ampia terrazza che sovrasta il parco. In questo spazio, ha spiegato la direttrice Andreina Contessa, si potranno organizzare anche piccoli eventi e cerimonie. Si parla di spazi molto piccoli quindi le cerimonie devono essere veramente piccole e limitate a 15-20 persone o poco più, non possiamo parlare di grandi matrimoni o di grande resta di gente perché gli spazi sono piccoli e delicati. Tra le novità annunciate in occasione dell'inaugurazione del Castelletto ha anche il nuovo biglietto per visitare le piccole attrazioni del parco a partire dal mese di giugno. Sarà un biglietto che costa 20 euro ma che include anche la visita guidata e l'accesso a tutti i siti che sono stati riaperti recentemente o che lo saranno. Partirà dalle sere nuove quindi l'orangerie, arriverà poi al Castelletto da qui si andrà al piazzale dei Cannoni e poi si scenderà nel bagno ducale e quindi si arriverà alle antiche cucine che apriamo il primo giugno. Bene, anche questa è una novità. Ci fermiamo un istante e ci ritroviamo tra poco con altre notizie e servizi. Ben trovati, ben trovati con la seconda parte del telegiornale di Telequattro Asugi dedica una giornata alla medicina dello sport e lo scopo è quello di indurre il più possibile gli sportivi soprattutto i master a sottoporsi ai controlli. È l'unico presidio di sicurezza medica nei giovani non c'è più la medicina scolastica e per gli atleti master è un controllo di estrema rilevanza per proteggere le persone che hanno passato i 35-40 anni durante attività fisica agonistica che può essere molto pesante. Una giornata per riflettere sulla medicina dello sport e sulla necessità di sottoporsi alle visite sportive per gli atleti giovani e master. Asugi dedica un convegno ad un settore della medicina che troppo spesso negli ultimi tempi diventa involontariamente protagonista della cronaca. Abbiamo visto nei mesi scorsi cosa può succedere se non si fanno questi controlli abbiamo avuto una morte improvvisa in Carso in una corsa campestre e questo vuole sollecitare le persone a prendere con serietà questo programma che è unico al mondo solo il nostro paese ce lo dà spendendo un sacco di soldi ma è molto molto importante per la salute degli atleti. Ma c'è da chiedersi chi è più soggetto fra gli sportivi ad episodi del genere? Col passare dell'età aumentano i fattori di rischio le comorbidità quindi eventualmente la presenza di diabete la presenza di pressione alta oppure comportamenti a rischio come nei soggetti fumatori ecco, e l'età anche da sola può costituire un fattore di rischio perché progressivamente la rischio cardiovascolare aumenta. Per prevenire dunque eventi estremi medicina dello sport è a disposizione con le proprie procedure e con i propri test. Noi facendo le visite di doneità riusciamo a identificare i soggetti a rischio di morte improvvisa e quindi fermarli prima che questo succeda. Cioè se io per esempio oggi ci occupiamo di atleti master facciamo dei controlli mirati per scoprire se questi atleti master hanno delle potenziali condizioni che possono favorire l'infarto in questo caso. Nessun dirigente né giocatore della Triestina Calcio è stato convocato in merito alla presunta indagine aperta dalla procura federale su Pergolettese Triestina sfida dell'ultima giornata del Girone A che sul campo ha qualificato l'Unione ai play-out e condannato il Piacenza alla retrocessione. In aggiunta non c'è stata nessuna comunicazione in merito alla società. Si profunda dunque anche l'ipotesi che la vicenda possa chiudersi in una bolla di sapone. Peraltro oggi c'è stata la conferma della gara d'andata di play-out sabato 6 maggio contro il San Giuliano allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Si è svolta questa mattina in piazza dell'Unità la corsa di solidarietà dedicata alle scuole battezzata Corsa dei Miracoli organizzata da Young Caritas e dalla Diocesi di Trieste. Più si corre più si dona e questo è il senso della Corsa dei Miracoli che questa mattina ha visto 2500 giovani runner in piazza Unità in una competizione che coinvolge gli studenti tutti dalle scuole materne alle superiori. L'evento giunto alla nona edizione è organizzato dalla Young Caritas e dalla Diocesi di Trieste su un circuito calibrato a seconda dell'età degli atleti. Presente anche il Vescovo di Trieste Enrico Trevisi che ha sottolineato il nobile scopo della gara. È bello pensare che il bene ci fa bene. Ci scomoda perché ecco la corsa ma però ci fa bene anche a noi e non dobbiamo pensare che il bene sia qualche cosa che invece è solito un sacrificio che era trista. Invece è qualche cosa che riempie la nostra vita. I bambini, i ragazzi ci stanno insegnando questo. Impariamo anche noi adulti. Conviene forse anche correre un po' per il bene. L'impegno per ogni scuola o singolo partecipante è stato quello di ricercare prima della corsa uno o più sponsor tra amici, parenti e aziende che si impegnano a fare un'offerta di un importo prestabilito per ogni tratto di corsa percorso dal singolo runner. Tutte le offerte raccolte verranno utilizzate nel progetto di sostegno per una casa di accoglienza rivolta a singoli o famiglie che versano in stato di disagio di tipo sociale, personale o anche economico. Una giornata veramente splendida ricca di persone quasi 2500 ragazzi in piazza più i volontari più tutte le persone che collaborano è veramente una grande giornata che ci richiama ai valori della cordialità della semplicità dello stare assieme e quindi veramente un punto d'onore per la Caritas e per la città intera per le scuole che hanno risposto in modo così forte a questa nostra iniziativa per la quale veramente ringraziamo di vero cuore tutti i partecipanti. Grazie a tutti. Omaggio a Mirò è il titolo della mostra in programma fino a settembre al Museo Revoltella presentata oggi allestita con il contributo di Achille Bonito Oliva. L'esposizione ripercorre la carriera dell'artista catalano focalizzandosi sulle mutazioni che ne hanno caratterizzato l'opera Umberto Bosazzi Un'ottantina di opere fra dipinti tempere acquerelli disegni sculture e ceramiche compongono la mostra Omaggio a Mirò visitabile da domani al Museo Revoltella dove resterà fino al 24 settembre un nucleo di opere che copre sei decenni della produzione dell'artista catalano esponente della corrente surrealista con un focus particolare sulla trasformazione dei linguaggi pittorici che Mirò iniziò a sviluppare nella prima metà degli anni venti del secolo scorso e che perciò documentano le sue innumerevoli mutazioni artistiche come delineate da Achille Bonito Oliva cui si deve sostanzialmente il percorso della mostra Mirò è un artista che ha questa capacità di elaborare un linguaggio senza mai aderire fino in fondo ad un'unica formula lui in qualche modo ha una sua esemplarità che è l'opera a produrla a permettere gli slittamenti quello che è interessante in Mirò è proprio questo un'arte antidogmatica sette le sezioni litografia poesia manifesto ceramica pittura musica dietro lo specchio omaggio a Mirò curata da Vincenzo Sanfo e realizzata da Navigare SRL è una mostra concepita ed appositamente calibrata per gli spazi del museo Revoltella che come ha ricordato oggi l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi attraverso le collezioni permanenti e le mostre temporanee è luogo imprescindibile per lo sviluppo turistico e culturale della città Allora ci fermiamo un istante per la pubblicità per chi ci segue in diretta però tra poco saremo in compagnia di Uberto Fortuna Drossi project manager di professione e presidente dell'associazione città metropolitana per parlare di urbanistica del futuro della città di Trieste restate con noi ben trovati ben trovati ancora in diretta siamo in compagnia come preannunciato da Di Uberto Fortuna Drossi project manager di professione presidente dell'associazione città metropolitana per parlare un po' di urbanistica ben trovato Drossi innanzitutto e grazie per essere con noi buonasera a tutti i telespettatori grazie dell'invito diciamo vediamo ci confrontiamo il nostro urbanista di riferimento allora ci sono tantissimi progetti tantissime idee per il futuro della città alcuni condivisi altri contestati però complessivamente come sempre quando parliamo di questi argomenti c'è il tema della visione complessiva del futuro della città tema che so che a Uberto Fortuna Drossi sta molto a cuore sì specifico che non sono un urbanista di professione ma mi interesso di urbanistica da molto tempo dal punto di vista culturale anche perché l'urbanistica è uno strumento borderline tra la cultura e l'aspetto tecnico in fondo una città è un corpo vivente e deve rispettare le idee anche di chi ci vive in questa città quindi o in tutte le città se no a quel punto potremmo delegare un algoritmo e progettare la città stessa ma l'algoritmo lavora su basi del passato noi certamente dobbiamo avere di riguardo la tradizione e il passato perché il presente è una logica conseguenza delle scelte del passato e anche delle volte delle non scelte ma il futuro lo facciamo noi va un po' per titoli così lancio un po' di spunti di discussione partiamo dal Portovecchio sul quale si sta lavorando i sottoservizi si sta lavorando anche all'alienazione dei magazzini con i vari interessati io per esempio penso che finché il Triestino non cammina sul mare in Portovecchio quell'integrazione città-Portovecchio non sia diciamo veramente iniziata questo è un mio spunto personale poi però ci sono tutti i temi dedicati a quello che avverrà nelle varie aree per esempio abbiamo già visto magazzino 26 e centro congressi che sono partiti di mezzo però c'è Green Season quella prima parte quel primo tassello ahimè ahimè sì a me mi è antipatico il termine Portovecchio perché allora sarebbe Portovivo dai sì lo chiamano Portovivo tu dal più preferirei Porto Antico come ha fatto Genova o ancora meglio Portoveccio perché alla fin fine rispetta un po' la nostra caratteristica ma io l'ho detto più volte il Porto deve essere un insieme di aspetti complementari tra di loro in modo da non rendere il Porto tutta anzi non chiamiamolo Porto quell'area un'area morta di sera bisogna creare un'area assolutamente viva quindi per me il riferimento rimane sempre Oslo Oslo è il recupero di un porto dismesso che è riuscito a creare una serie di interessi quello commerciale quello dell'edilizia pubblica residenziale in modo che non venga sempre relegate in ghetti in casermodi che trovo assurdo questo aspetto dal punto di vista della vivibilità e anche del tessuto urbano e poi la residenza di alto profilo che è un po' quello che aveva in mente e che in parte è stato fatto nel borgo teresiano quando Maria Teresa impose più che Maria Teresa gli urbanisti di allora imposero che i mercanti accogliessero le persone povere magari nei sottotetto ma tutto sommato c'era una commissione che ha creato anche quell'aspetto del dialetto triestino che non era diviso tra non era una questione di censo lo parlavano tutti quanti tutti quanti a proposito mi piace il tallero? sì un po' troppo lucido un po' troppo lucido però piace molto le fotografie però ritornando su Porto Vecchio io la vedo sotto questo aspetto qua ovviamente molti potranno obiettare dicendo ma come costruiamo altri edifici residenziali ma io posso dire nel primo questo non giustifica è quello che sto dicendo nel primo novecento fu fatto un piano urbanistico ancora sotto l'Austria per una città di 600 mila abitanti ma nel 34 fu fatto un piano urbanistico in prospettiva di 500 mila abitanti quindi ci vuole ambizione anche quella piccola dose un po' megalomane che però deve essere sempre calmirata dal buon senso diciamo che bisogna spiegare ai triestini che tutta questa operazione è in prospettiva di una città più popolosa con più abitanti perché altrimenti no non avrebbe non avrebbe logica certo noi abbiamo bisogno di importare una della popolazione che ho sempre detto che può essere importata creando strutture tecnologiche ma più che tecnologiche insediamenti di alta tecnologia e mi allaccio adesso ad un altro discorso urbanistico tutta la zona industriale dove è stata fatta in parte la caratterizzazione e quindi bisogna fare le bonifiche quella lì va incentivata con una retinatura chiamiamola così tecnicamente no ma un indirizzo dove l'Italia può mettere a disposizione dei contributi superando il de minimis che sarebbe il massimale che l'Europa concede per avere dei contributi per avere per fare la costruzione per fare l'insediamento e superando come in che modo dicendo bene io lì faccio industria a inquinamento tendente allo zero ciò vuol dire industria di alta tecnologia ciò vuol dire importare gente e anche mantenere i nostri ragazzi sul territorio quello che vuol fare Zenodo Agostino e le noghere in prospettiva no? sì io accolgo l'iniziativa di la valle dell'idrogeno è una grandissima cosa anche l'ingegner Ferrante a suo tempo voleva creare un polo della tecnologia solare quindi vanno trovati questi più che indirizzi queste finalità e oltretutto anche i contributi necessari per farlo ripeto più volte Urban città vecchia non è stata ristrutturata dove il finanziamento non serviva finalizzato alla ristrutturazione delle case il finanziamento era finalizzato all'insegnamento dei contenuti all'interno di strutture immobiliari e per avere all'interno un'iniziativa bisognava ristrutturare le case tra l'altro quella zona della città è diventata una zona in cui non voleva vivere nessuno una zona in cui addirittura gli stranieri comprano casa quindi come dire tutto un volano torno al Portovecchio perché in Portovecchio ci sarà dovrebbe esserci la cabinovia ahimè dico la cabinovia è un argomento che allora dal punto di vista di suggestione a me piace molto dal punto di vista suggestivo poi bisogna fare i conti anche con la fattibilità certamente non siamo una città da 2 milioni di abitanti ma io non posso pensare che l'amministrazione pubblica non abbia fatto bene i conti io non vorrei che in questo momento diventasse un braccio di ferro prettamente politico ma vorrei che ci fosse affrontato l'argomento di politica economica chi gestirà se il TPL il trasporto pubblico locale è però con annessi con essi oppure il comune il dato di fatto comunque che ovviamente vanno fatti bene i conti con buon senso e io devo dire devo dare un merito all'amministrazione l'amministrazione è stata eletta e lo dicevo anche prima è stata eletta c'è stata una scelta era prevista nel programma la cabinovia se non sbaglio quindi tutti erano consapevoli ha vinto questa amministrazione con un voto minoritario in rapporto al potenziale dell'elettorato perché adesso c'è di fondo un'astenia uso questo termine democratico cioè l'astensione al voto quindi c'è una maggioranza che delega una minoranza a decidere chi governerà questa città e a questo punto io dico bene hanno coraggio se la cosa funzionerà allora saremo tutti quanti contenti altrimenti sarà una macchia indelebile per chi avrà amministrato però un cittadino ovviamente potrà anche dire bene però sono soldi nostri ragazzi elettori potevate svegliarvi prima vado in una zona vicina che è quella di Barcola dove sono iniziati diciamo gli studi di fattibilità da parte di comune regione Friuli Venezia Giulia sul famoso allargamento della parte costiera di Barcola che non è assolutamente una novità perché di progetti ci sono stati tanti ogni decennio praticamente c'è uno nuovo c'è quello se non sbaglio dell'ingegnere Brambati se ne parlò sotto Ili no no non se ne parlò io feci fare un concorso due concorsi uno finanziato dalla fondazione della Cassa di Risparmi e l'altro invece con la collaborazione dell'associazione dei costruttori locali e l'altro invece un concorso organizzato dal comune il progetto del professor Brambati serviva a definire gli aspetti tecnici affinché venga fatto un certo allargamento io lo chiamavo l'allargamento di 50 passi perché è meno impattante in realtà sono circa 50 metri 55 metri che e poi sarebbe il filo che segue la scogliera del porticciolo del Cedas e veniva fatto in lotti da 150 metri per non per evitare che tutta la riviera lo stallo della riviera durante l'estate come è successo con la galleria di piazza Foraggi ecco lì però come dire c'è il tema di tutta una serie di cose che diventano poi interconnesse che vanno pensate assieme perché c'è il portovecchio c'è il terrapieno di Barcola di cui non abbiamo parlato ma sul quale c'è questo importante progetto da un punto di vista sportivo e c'è Barcola quindi poi bisogna capire anche il senso di viabilità come le varie cose stanno insieme e come dare un senso no? Sì in discorso della viabilità io non credo nei parcheggi di interscambio i parcheggi di interscambio funzionano quando uno viene alle 8 di mattina e va via alle 8 di sera per dire quindi come il caso della cabinovia uno arriva su ma sono 750 posti quindi non è quello che fa la massa critica dell'utente questo vale per tutta la città la città dovrebbe avere qualche parcheggio in più come era stato fatto a suo tempo un piano dei parcheggi e quindi ci dovrebbe essere una penetrazione nella città e dopo ci si muove l'orografia della città è molto complessa perché stretta e lunga e quindi è difficile ragionare come se fosse una città piana come se tutta la città fosse un borgo teresiano e allora quando si fanno si decide delle localizzazioni di iniziative bisogna fare ragionamento anche quello del traffico giustamente lei l'ha posto io le sollevo un altro argomento il polo il plesso scolastico futuro della caserma di Vierasano ecco non è pensabile che non si risolve il problema della viabilità entrando dentro nel polo perché in mezz'ora noi avremmo 1500 studenti tra pullman macchine che accompagnano sulla via Rossetti impossibile verrebbe fuori un caos così vale per tantissime altre iniziative i parcheggi non sono un privilegio per l'automobilista assolutamente ma dobbiamo dare noi dobbiamo creare delle isole pedonali dove alla fine prevale la funzionalità del cittadino del pedone e degli spazi di penetrazione spazi che è un po' il sistema che stanno adottando alcune città anche più importanti e molto più grandi della nostra anche perché uno per esempio non so tante volte pensa al fatto ma che bello la costiera solo con diciamo così degli autobus elettrici libera la circolazione poi però ti giochi una delle vie di penetrazione della città altro tema oggi hanno presentato la riqualificazione per esempio del castelletto di Miramare la direttrice contessa dice già oggi è ingestibile l'accesso da via di Miramare perché ci sono troppi e ci vuole l'ascensore che a quanto pare sta arrivando quindi come dire ci sono anche delle strettoie nell'accesso alla città che se fai una determinata scelta poi però ti giochi determinate possibilità per me è un'amministrazione se io fosse un'amministratore creerei un pool di chiamiamoli di pensatori di pensatori dove c'è un aspetto che parla di socio-economia un aspetto prettamente tecnico urbanistico e un aspetto culturale sentire un po' e mantenere fare ogni tanto delle riunioni per capire anche dove indirizzare la città perché un piano urbanistico non può essere uno strumento rigido definito soltanto come è stato fatto già da decenni e decenni per stabilire quanti metri cubi devo costruire nella città no è sbagliato è sbagliato e mi dispiace si persevere su questa strada purtroppo e quindi è necessario lavorare considerando tutti gli aspetti che un piano urbanistico prevede il rumore la luce tutta una serie di cose parliamo delle luce di Trieste che è caratteristica valorizziamola per quello che possiamo fare visto che le costruzioni ci sono però io demolirei molte cose ad esempio tutta la zona della Lanterna la spianerei povere c'è la Lega Navale lì nessuno vuole demolire ma creiamo di fronte a un simbolo storico della città che è la Lanterna che è la Lanterna perché alla fin fine in teoria si demolisce e si fa il parco del mare in teoria Dio mio siamo pieni di contenitori e non abbiamo contenuti da inserirli dentro allora a proposito prima ha toccato il tema galleria mi viene in mente anche un altro ipotetico tunnel perché il sindaco si sa ha affidato anche la progettazione del sottopasso sulle rive di Trieste per togliere tra l'altro le macchine dalle rive per non farle passare nemmeno davanti a Piazza Unità d'Italia altro tema che ritorna di amministrazione in amministrazione si ci hanno pensato un po' tutti insomma si perché a me diverte moltissimo quando vengo qua a me piace molto perché mi piace anche il confronto di fatti con Trieste e Mattina con Giulia Trieste si è simpatico perché c'è una reazione il progetto era stato fatto durante il concorso di Piazza Unità e c'era un progetto dell'architetto Valle ma non c'era soltanto quello c'era anche un finanziamento che dava la possibilità di progettare e iniziare un complesso ITER per fare una galleria di sottopasso davanti a Piazza Unità ma a un lungo tratto delle rive premesso che c'era anche un progetto finanziato dalla comunità europea che non mi ricordo l'anagramma andava dal porto Veccio fino a Campomarzio una galleria allora che non mi dicano i detrattori o quelli che c'episcono sempre su qualsiasi cosa che entrerebbe l'acqua no ormai si possono fare parcheggi sott'acqua si può fare quello che si vuole si è fatto il tunnel sotto la manica insomma per due chilometri non sarà la fine del mondo però insisto bisogna avere ambizione porre meno eccezioni mettersi in discussione c'è un'amministrazione si deve mettere in discussione è giusto che ci sia un'opposizione è giusto perché a delle volte poi ti fanno aprire gli occhi e non deve esserci un confronto prettamente non soltanto politico ma politico partitico ma di politica della strategia e della visione della città questo è importante tra l'altro quando parlavamo prima del discorso del futuro polo scolastico alla ex caserma Vittorio Emanuele lì c'è anche il tema della fiera che è un altro insediamento che a breve dovrebbe partire nella sua rivisitazione ripensamento con questa accordata austriaca e lì effettivamente poi se vengono realizzate entrambe le cose bisogna rimpensare l'area in maniera molto più profonda appunto per non creare intrasamenti come diceva Sì a me dispiace che delle volte si accolgano certe proposte con entusiasmo che poi dopo questo entusiasmo va a scemare perché ti accorgi che l'interlocutore non è all'altezza di sviluppare un lavoro no? oppure di andare avanti o di o non gli si è dato delle linee guida è importante dare delle linee guida no? E indubbiamente è importante anche dico quando dico ambizione non voglio essere freinteso stabilire dei criteri ben precisi ma non di dettaglio di dove si vuole arrivare su certe cose lei ha citato adesso la fiera la fiera quello è uno dei tanti esempi che andiamo a tentoni avanti ma non posso imputare a questa o all'altra amministrazione è una caratteristica nostra e patologica di porre eccezioni su ogni cosa e di non discuterne prima serenamente sulle cose Palazzo Carciotti ultimo tema Ah Palazzo Carciotti il sindaco mi insultava ogni tanto perché dicevo delle cifre non le dico più le cifre io dico semplicemente che chi prende in mano Palazzo Carciotti deve affrontare una spesa notevole per il consolidamento nonostante sia di grandi dimensioni il palazzo ma ci sono alcuni aspetti vincolati e quindi secondo me è una struttura che va diciamo bisogna trovare è un'opera tiepida non è un'opera calda cosa vuol dire non è un'Europa è un'opera da speculazione è un'opera dove il soggetto che entra dentro ha determinate finalità nel utilizzare la struttura ci sono delle grandi realtà qua a Trieste perché no anche in associazione con il comune il comune bene o male è intervenuto sul centro congresso non come socio ma come contribuente grazie grazie Roberto Fortuna Drossi per essere stato con noi noi proseguiamo per la nostra programmazione vi ricordo ancora una volta che c'è Ringale 21.05 restate con noi grazie a tutti grazie a Telequattro grazie a tutti